Di soliti gnoti, scena 1, prima, c'entra il futuro, ciac! Azione! Oh, ma che vuoi? È buono! Rubare un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Ma al massimo potete andare a lavorare. Ma lavorare? Lavorare stanca! È buono! Ma che è? È buono, è pasta e ceci. Come si apre sta barattola? Ecco uno degli scassinatori, ah, tira così. Oh, beh, c'è pure il ghiaccio. Ci sono quattro i voltini, ci do una scaldatina. Lo sai che non è male? Una goccina di toglie in più ci vorrebbe. A me non mi pare, appassionatamente. Senta un po'. Delle nostre parti diciamo, femmina piccante, prendila come amante. Femmina cuciniera, prendila come mogliera. Ora, non suoi, oppure mi gassia rozzo. Non, non... Non, non suoi, oppure io, oppure. No, non mi pare, anche hat. Non. Al prossimo modo Grazie a tutti.